Cecilia Rodriguez vestito dorato a Verissimo, marca e prezzo Verissimo, di che marca è il vestito oro e nero di Cecilia Rodriguez?. Lo stile di Cecilia Rodriguez continua a colpire. Tante le ragazze che hanno apprezzato gli outfit della sorella di Belena al grande fratello Vip. Ospite di Verissimo, l'Argentina ha lasciato di nuovo il segno con un bellissimo vestito di paellettes. Un mini dress corto in oro e nero, con maniche lunghe, che in molti hanno approvato entusiasticamente. Di che marca è? Di Zara. Cecilia, come confessato nella casa più spiata d'Italia, è una grande appassionata del marchio Love Cost Spagnolo così come nel suo armadio ci sono tanti capi del brand svedese H&M, altro caposaldo della moda a basso costo. L'abito sfoggiato nel salotto di Silvia Toffanin fa parte della collezione autunnale 2017 di Zara e ha un prezzo davvero accessibile a tutti, appena 47 euro e 96 centesimi. E' acquistabile in tutti i punti vendita del marchio ma pure sull'e-commerce, che effettua spedizioni in tutta Italia. Gli abiti di Cecilia Rodriguez, da Zara a H&M. Fresco, moderno e ricercato, così possiamo riassumere in poche parole lo stile di Cecilia Rodriguez. Come ogni giovane donna, pure l'ex fidanzata di Francesco Monte è una grande appassionata di moda. La sudamericana ama fare shopping e non perde mai occasione di fare un salto da Zara o H&M, diventati negli ultimi anni dei veri e propri colossi del mondo della moda. Non solo brand economici, ogni tanto Cecilia si concede qualche lusso, in una puntata del Grande Fratello Vip ha infatti indossato un paio di stivaletti Fendi dal valore di 790 euro. Dunque, la più piccola della famiglia Rodriguez riesce ad unire nei suoi hooftit l'alto e il basso, creando così degli abbinamenti sempre unici e particolari. E nell'ultimo periodo è così diventato un punto di riferimento per tante fashioniste. L'abito di Cecilia Rodriguez non è lo stesso indossato da Belen. Molti hanno confuso l'abito di Cecilia Rodriguez con quello indossato da Belen in una puntata di Tussi Q e Vales. In realtà non si tratta dello stesso vestito, quello sfoggiato dall'ex moglie di Stefano De Martino e un capo di Anie Bai. Ciao!